Bella ragazzi qui WillJ e ben ritrovati nel mio canale in questo nuovo video Oggi siamo qua ragazzi ritornati su FIFA 17 Però questa volta per iniziare la serie del ROAD 2 Division 1 Quindi veramente supportate al meglio questa serie Superiamo assolutamente i 40 like se volete che questa serie continui Prima di farvi vedere la rosa vi voglio dire due cosine In primis come vedete c'è una migliore disposizione della luce quindi mi dovreste vedere più illuminato Perché ho cambiato la predisposizione delle luci e spero si veda migliore almeno lo spero E seconda cosa breve cambierò nome del canale Se volete sapere in cosa verrà cambiato il nome del canale Andate sulla pagina di Facebook e lì troverete un post con scritto il nuovo nome del canale Quindi molto probabilmente questa qui sarà una delle ultime volte in cui vedrete questa intro con questo nome eccetera eccetera Comunque se dopo aver detto queste minchiate che non interessano a nessuno mostriamo la nostra rosa Eccolo qua abbiamo il portiere che va ad 82 Per quanto riguarda l'attacco devo un po' cambiarlo perché alla fine non è che siano chissà che In ala destra troviamo Candreva poi in centro campo troviamo Motta con Noboa che vorrei cambiare con un giocatore Perché comunque sia questa rosa la voglio sia italiana che della serie A quindi probabilmente verrà fuori una rosa quasi serie A Esterno sinistro troviamo Young anche lui da cambiare Terzino sinistro Evra difensore centrale Benatia Altro difensore centrale Matip che verrà cambiato con un altro giocatore E terzino destro troviamo il nostro Müller falso E io direi di iniziare Ok vediamo la rosa del nostro avversario Perfetto Dai non è né malaccia né anche fortissima Ce la potremmo cavare Ok ed eccoci qua in campo Perfetto iniziamo Perché lagga? Perché lagga? Ragazzi non mi piace sta laggando Perché deve laggare sto gioco maledetto proprio? Guarda guarda come l'ha E' schifoso è orribile La cosa non mi piace raga sta laggando veramente un botto Cioè io non ho parole Ma perché proprio quando devo giocare io devo trovare le persone che laggano Ok se sta stabilizzato forse non lo so Boh vediamo Vai passa passa lì Mamma mia non sei fuori gioco vero? Non sei fuori gioco? Mamma mia che lentezza però Ma tanto era fuori gioco Ovviamente in questo primo episodio giocheremo due partite Poi ne andremo a giocare Poi ne andremo a giocare tre partite a video Mamma mia se passava lì Se passava lì Raga abbiamo bisogno di un attacco eh No raga vai 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 mamma mia vai Inks Tu dovresti avere un pochettino di velocità Vai lì in mezzo Crossa Che cazzo? No non è normale Che raga ma ci rendiamo conto che schifo è successo Fra poco mi sa che provo a cambiare un attaccante fuori gioco What? Ah raga se mi fa un tiro e un gol Mi ingazzo eh Se mi fa un tiro e un gol Mincavolo dai Spara via sta palla per favore Perché diciamo ancora le doti del nostro portiere non sono state neanche viste E spero di non vederle Perché come portiere non lo conosco e non so se è buono o è scarso Comunque sai Young è velocissimo raga Però lagga C'era stato un recupero lì Ma che cavolo io ho fatto quadrato eh Perché non hai fatto la scivolata Dai vai C'è 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 E ci prendiamo il giallo così gratuitamente Cioè sono deficiente sono Mi spiegate che diavolo sta succedendo Che l'albitro si era rimasto lì per 25 minuti a scrivere qualcosa che non so cosa sia E quindi Boh Veramente Cioè Perché non hai fatto il passaggio Perché Perché è un portiere brutto Mannaggia a me Ma ha fatto un tiro e un gol Io lo sapevo che finiva così eh Dobbiamo rimondare assolutamente in qualsiasi modo però regà Però regà È fuori gioco Non mi dite nulla È fuori gioco È fuori gioco Cazzo Cioè regà Già io 2 a 1 Così non ci credo Non ci credo 2 a 0 Come cazzo faccio a fare Due cavolo di gol Dai Ma che cavolo Cioè ci rendiamo conto Ci rendiamo conto Due tiri Due gol Per colpa Dell'albitro ritardato Che non vi schia fuori gioco Vai Non è fuori gioco Non mi interessa nulla Non è fuori gioco Tiri Rigore Rigore pezzo Rigore Perfetto Calcio di rigore Te lo meriti Gli dovevi dare Il rosso Gli dovevi dare Gli dovevi dare Il rosso Maledetto Allora Il rigore Il rigore Ok Eh Bru Ragazzi Ma vaffanculo Ho preso Palo Tanto lo so che nei commenti Ci saranno tipo 30.000 commenti Del tipo Sei scarso Sei una merda Quindi evitate di scriverli Perché già lo so che sono scarso Ma non è colpa mia C'è raga Perché non c'era E va bene Si ricomincia Perfetto C'è raga Però non ho parole Non possiamo perderla C'è raga Abbiamo una squadra Che non è Ne malaccio Ma neanche discreta Ma Non si sanno muovere Si muovono male Mi riferisco di più Agli attaccanti C'è questo X Che mi sta stupendo Veramente Ha una bella velocità Ma dove minchia La spara la palla Però c'è questo il problema Ah è stata deviata Ottimo Ottimo E chi l'aveva visto E chi l'aveva visto Salza Mamma mia Che saltatori Che saltatori Orribili però E mo dove l'ha difesa E dove l'ha difesa Boh Vai che andreva Vai che andreva Con la tua velocità Vai 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 Girati Uh Girati Tira E la spara via Ma perché la sparano via Tanto non ne vingeremo Nemmeno una Oggi partita Sicuramente Non è fuori gioco Inutile che dici Inutile che fai Guardate che Che attacco Che attacco Orribile Ma cos'è Ma che cross è Dai regà Ma mi volete dire Che questo è un bel attacco Se non acquisto Degli attaccanti buoni Qui Non si va Avanti Vai 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 Inks Che tu mi stai stupendo Positivamente Dai tira Dai Maledetto portiere Poi con il lag Ci mette la tensione Mamma mia Però Che cavolo Cioè Ma è impenetrabile Allora No Io non ci credo Io non ci credo FIFA è una merda Veramente Cioè Ma vi rendete conto Cosa è successo Il mio calciatore Ha buttato giù Il mio calciatore Che era pronto a saltare Per l'angolo Cioè Io non ho parole Para Tutto eh Ma che cazzo è Innoier falso Quanti angoli ci sono stati In questi ultimi 25 secondi Cioè Ho perso il conto Vuoi vedere che adesso segna Vuoi vedere Vuoi vedere che adesso segna Va 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 E finisce qua Questa prima partita Cioè regà Guardate le robe Ho fatto 17 tiri 8 tiri in bordo Cioè Io non ho parole Ok Ok Perfetto Questa squadra Non mi fa paura Però bisogna vedere Che giocatore è lui Se è scarso o forte Perché la squadra Non va il giocatore Ricordiamocelo questo Ricordiamocelo Quindi vediamo Di giocare bene Ma io veramente Cioè Però sti attaccanti Mi fanno proprio schifo Mi fanno proprio schifo Mi fanno Oh merda Regà Sta situazione Qua non mi piace L'ha devastato L'ha schiacciato Praticamente Un po' meno aggressività Caro difensore Non vorrei che tirerebbero Il rosso così Sai come Ma non era fuori Regà Io metto il replay Veramente Se perdo anche questa partita Per colpa di FIFA Giuro che mincavolo E non bocco Cioè cavolo Non era fuori gioco Era ancora dentro La palla Vai Mamma mia Dai Frenati Girati bene Mamma mia Regà Con calma Con calma Passa lì Mamma mia Vai tira Madonna mia Tira Non ci credo Non ci credo Pappena Vai vai Mamma mia Come mi marco Mamma mia Però Che tiro a giro Brutto Vai regà Mamma mia Vai Vai che sei libero Vai Emenic No 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 Perché Madonna Raga Io mi metto a piangere Cioè veramente Ma ci rendiamo conto Ma il portiere Che cazzo ci vede Guarda Mangolo inquadrano proprio Si è buttato Mezz'ora prima Io non ho parole Cosa è successo Chiosa Si è infortunato Musunda Perché Poi io non ho parole Cioè già mi stanno Invortunando tutti È una cosa stupenda Due partite Due infortuni Due partite Due bug Veramente io non ho parole No 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 Senti Signora difesa Vedi di giocare Oh 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 Che cazzo No 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 Ma dov'è la difesa Dov'è l'attacco Ma che cazzo di squadra Oh Regà io vi giuro Mi sto vergognando A perdere contro Contro questa squadra Cioè ci rendiamo conto Boh Va bene Contenti loro Contenti tutti Ma che bella squadra di merda Che ho Complimenti eh Una squadra migliore di questa Sicuro potevo uscirmi Guarda Vai vai Tira di fuori Tira di fuori Madonna Mi sembrava gol Portiere Ti fremo Ma vi rendete conto Quando fa schifo Ma di riflessi Quando c'ha Meno 95 Per caso Boh non lo so Guarda guarda Madonna Cioè io regà Non so se vi riuscirò A portare un gol In questa cavolo Di partita Ci rendiamo conto Cioè veramente Ho paura Di non riuscirvi A portare nemmeno Un gol In questa cavolo Di partita Dai 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 Passa lì veloce Tiro Orribile Ti Va bene Va benissimo Va benissimo Ma regà Ma che difesa smembrata C'ho Ma che difesa smembrata C'ho Guardalo Quello Che stop Che mi fa Guardalo Dai ti prego Ti prego Muoviti bene Muoviti Mamma mia Vai Bellissimo Bellissimo Però al centro Non c'è nessuno Perché Perché è una squadra Orribile Mamma mia Regà Che tristezza Perfetto Andiamo Ce la fai a scattare E non varti a beccare Da sto tizio qua Vai Bellissimo Cioè Bruttissimo Ma sono attaccanti Per caso O attaccanti veri Cioè fatemi capire Vai 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 Lì in mezzo Si passa Lì che passa Lì in mezzo Dai 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 Scatta Scatta Corri Tira Solo io C'ho il portiere Orribile Solo io C'ho il portiere Orribile Solo io C'ho i tiratori Orribili Solo io Tutto Orribile Guarda Guarda il portiere Dobbiamo dire Grazie Che ha i piedi Al contrario Quel tizio lì Se no altrimenti era dentro Perché avete visto il portiere Come si è comportato Vero Avete visto Tira E che cazzo però Che attaccanti di merda Non tirano neanche a pagarli Dai 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 Girati bene Girati bene Tira una cannonata Niente Vai 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 Tira Dai Gol Come la nulla Come la nulla Va bene Va bene Va bene Ho fatto Un zacco di tiri Il primo che mi entra in borta Boom Fuori gioco Annullato Forza dai Almeno un gol Rega Almeno uno Vi prego Almeno uno Tento per dimostrare Che almeno un gol L'abbiamo fatto Dai 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 Inks Dai Inks Tira una bomba Niente niente Fa schifo Fa schifo Non posso segnare Incredibile Si è pure frizzato fifa E qui abbiamo un'altra piccola stima Dei tiri che ho fatto io E dei tiri che ha fatto lui Quindi ragazzi Che dirvi Fatemi sapere se il video vi è piaciuto Lasciando un bel like E inoltre Fatemi sapere Che giocatore Acquistare A livello di attacco E a livello di portiere Perché ha 82 Ma non lo dimostra E inoltre Fatemi sapere Se volete Che continui Il road to division one Anche se non è iniziato Al meglio Lasciando veramente Tantissimi like Quindi superiamo Assolutamente I 40 like E condividete il video Come dei matti Quindi Se volete passare Dalla pagina di facebook E da proprio lo instagram E trovate il link Sotto in descrizione Iscrivetevi al canale Per i nuovi video Qua dove l'ho già tutto Bella raga L'avevamo appunto Giocata nello scorso episodio Ma Hanno tutti votato Qui e come ben sappiamo Come ben sappiamo La maggioranza Vinge Che poi non so se avete notato Ma oggi Mi impallo Fin troppo Mi inceppo A parlare Ed è veramente Un casino Qui dietro c'è qualcuno Intanto io sento Tipo le porte Qui dietro c'è qualcuno Intanto io sento